Non tutti sono obbligati a capire che quando si apre un dibattito culturale con interlocutori di rilievo internazionale sul tema del rinnovo urbano è doveroso lasciare da parte provincialismo e cialtroneria. Così commenta il sindaco De Luca le polemiche a seguito della nota indirizzata al comune di Salerno dalla figlia di Italo Calvino, Giovanna. Scrivo in riferimento a un convegno da voi organizzato in difesa della costruzione abusiva di un mastodontico edificio in riva al mare a Salerno. Si legge sul profilo della figlia del celebre scrittore e saggista italiano. Sul manifesto del convegno citate impropriamente una frase di Italo Calvino per giustificare la vostra operazione. Vi suggerisco una citazione alternativa che riflette quella che era la vera opinione di mio padre sull'argomento e che sembra applicarsi quasi perfettamente al vostro caso. Tutti questi nuovi fabbricati che tiravano su, casamenti, cittadini di sei, otto piani, a biancheggiare massicci come barriere di rincalzo al franante di gradare della costa, facciando più finestre e balconi che potevano verso mare. La febbre del cemento sarà impadronita della riviera. È tratta da una novella intitolata La speculazione edilizia, di cui vi consiglio la lettura. La frase, utilizzata secondo Giovanna Calvino impropriamente dal comune di Salerno, è tratta invece dalle città invisibili. Obbligata a restare immobile e uguale a se stessa per essere meglio ricordata, Zora Langui si disfece e scomparve la terra, la dimenticata. È incredibile, replica il sindaco De Luca, sono stati capaci di chiamare in causa a New York la figlia di Calvino, che presumibilmente non sa niente di Salerno, per arruolarla tra i sostenitori del nulla. Per De Luca la citazione dalle città invisibili è assolutamente corretta, è riferita non ad una singola opera, ma alla sottocultura della conservazione a prescindere, del rifiuto ottuso all'innovazione. La frase è lì ed è quella, e per De Luca non c'è nulla da contestare. La citazione che viene contrapposta invece per De Luca è del tutto sbagliata. Nell'area in questione non c'è nessun di gradar della costa, offeso dalla febbre del cemento. Lì c'era un'area totalmente cementificata, scrive il sindaco in una nota, lì c'erano decine di capannoni fatiscenti, lì c'era il degrado più vergognoso. De Luca dunque replica duramente che l'amministrazione comunale avrà la forza e la pazienza per rispondere punto su punto ai nemici di Salerno. Avremo la forza, conclude De Luca, di continuare a costruire un futuro di lavoro per i tanti giovani che aspettano che le istituzioni creino occasioni ed opportunità di vita per chi non può vivere del nulla. Grazie. Grazie.